Susanna Soldi, una bella vittoria nella prima partita contro il Sudafrica, tante valide, una pedana di lancio solida con Alexi alla catena, forse l'inizio, il primo inning, magari siete partite un po' pianino. Sì, siamo partite piano perché dovevamo ancora rompere il ghiaccio, ma man mano abbiamo preso confidenza e sono partite delle belle valide e abbiamo vinto manifesta. Avete vinto manifesta con sicurezza, diciamo così. Certo le partite di domani contro Giappone e Australia saranno completamente diverse. Saranno delle partite diverse, ma il nostro animo è molto alto, ci fidiamo molto della squadra, siamo molto unite e quindi giocheremo al massimo. Senti, quando avete cominciato a toccare duro i lanci del Sudafrica si è capito che questa squadra ha un buon potenziale in attacco, voi lo sapevate già, però questo può essere molto molto utile per le partite di domani. Sì, abbiamo un gran potenziale in attacco, abbiamo dei battitori che colpiscono duro la palla, ma ci sono anche dei battitori che riescono a mettere la palla in gioco con dei giochi corti e sicuramente domani serviranno molto questi contro Giappone e Australia. Ti è piaciuto questo campo, questa logistica, questo complesso in cui avete esordito, in cui si gioca il mondiale? Sì, l'organizzazione è molto buona, il campo è ottimo, a parte un po' il vento oggi è andato tutto bene. Ecco, volevo arrivare lì, tu speravi che quella palla andasse fuori, perché oggi 3 su 3 con un fuoricampo si sognavi. Sì, pensavo fosse fuori, però dopo la prima ho capito che dovevo iniziare a correre.